Siamo con il primo punto iscritto all'ordine del giorno per la surroga del consigliere e consigliere del commissionario Spalletta Luigi. Io vi leggo il deliberato che il Consiglio Comunale delibera di prendere atto della non accettazione degli candidati di D'Aus, Federica Bassotti, di surrogare per quattro indicati in premessa, che qui si intende tecnicamente richiamare, il consigliere del commissionario di Ministro Spalletta con il signor Giampaolo Pellosino, qui faccio una rettifica che c'è scritto un altro a Rocca di Paolo, invece è presidente a Rocca di Paolo in Roma, candidato nella lista Grotta Perrata per noi, Fontana, che ha riportato il maggior porziente elettorale il quale non presenta la dichiarazione, il quale non presenta condizioni di inelegibilità e incompatibilità ai sensi degli articoli 60 e 63 del periodo legislativo del 17.1 di suroga, come la dichiarazione di lo stesso che è riportato in abitato, di prendere atto che il consigliere di surrogare e non carica non appena adottata la presente deliberazione di surroga ai sensi dell'articolo 38,4 del periodo legislativo di 67 del 2000 e si vota anche l'immediata seguita dopo il suroga. Quindi voti favorevoli alla delibera di surroga, otto voti favorevoli contrari e sei contrari. Il consiglio di nominare i discutatori, il consigliere comunale. Grazie. 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 Grazie a tutti. nella Vista Forza d'Asia per lo scoglio per Funtana che è riportato in marcia forzente elettorale, in quale non presenta condizioni di inizibilità e incompatibilità ai sensi del attivo del 60-60-30 che è legislativo di Sera Telemina, come una dichiarazione dello stesso allegato alla presente delibera. Di prendere atto che il consiglio è eserutato impencare che non ha appena adottato la presente deliberazione di Sura, che è sensi del attivo del 28,4 del decreto legislativo di Sera Telemina. Sante Ruggia, anche qui c'è la provvisoria immediata di eseguibilità, scusate. Voi di favorevoli? 1 di 2, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 di prima, aspettate l'intervento dello scudatore, grazie. Contrari? 6 come prima, imitare eseguibilità? 9, contrari? 6. Quindi il consiglio approva la subruca. Prego, consigliere Marconi, può accumulare se pervenuto un consiglio comunale. Grazie.